Due splendide giornate di sole hanno fatto da cornice alla terza regata internazionale Open Skiff che si è svolta nella Baia di Sapri valida anche come seconda tappa del campionato zonale 2021. Dopo la tappa dello scorso 22-23 maggio la Lega Navale di Procida ha lasciato il testimone al circolo nautico Sapri che nell'ultimo weekend di giugno ha ospitato 18 giovani timonieri di questa emergente classe velica che in quinta zona ha due squadre vincenti quella del circolo nautico Monte di Procida e quella della Lega Navale italiana di Procida e il pluricampione italiano Manuel De Felice. Condizioni di vento leggero con quattro prove portate a termine in due giorni di regata. Presidenti in acqua, gli ufficiali di regata Roberto Spagnolo, presidente del comitato di regata, insieme ad Adele Gagliardi, Pasquale Cutrupi e Gianfranco Sulis, mentre tra gli arbitri Fabio Ambrosanio e Roberto Miraglia. Al termine della regata la premiazione condotta dal presidente del circolo nautico Sapri Carlotta Brandi ha visto premiati nelle tre categorie una serie di giovani. Prossimo appuntamento con la terza tappa del campionato zonale Open Skiff nel weekend dell'11 e 12 settembre, mentre la flotta campana si prepara per la trasferta al mondiale di classe in programma in Sardegna a Calasetta, sulla punta settentrionale dell'isola di Santioco nell'arcipelogo del Sulcis dall'11 al 17 luglio prossimo. È una grande soddisfazione. Questa è la prima volta che a Sapri accogliamo questi giovani che fanno questa nuova disciplina dell'Open Skiff. Noi siamo nati nel 73 e abbiamo sempre fatto Optimist, però abbiamo visto che l'Open Skiff è molto amato dai giovani e quindi abbiamo deciso di invitare questa regata, di organizzare con la Federazione Italiana Vela e con la classe Open Skiff questa regata nel Golfo di Policastro, nella Baia di Sapri. Una tradizione lunga la vostra, cominciata nel 1973, fatta di tante belle soddisfazioni. Sì, senz'altro. Soprattutto una grande soddisfazione per il nostro lavoro con i giovani. Siccome io sono un ricercatore del CNR, ho cercato sempre di far unire la vela alla ricerca scientifica e ho portato anche insieme ai dirigenti delle scuole, i ragazzi a Roma, alla Vasca Navale del CNR, all'Istituto di Archeostronomia, sempre di Tor Vergata a Roma. Insomma, ho fatto avvicinare lo sport della vela alle scienze del mare, della natura, della fisica, della matematica, della chimica e quindi a rendere anche queste scienze più appetibili ai ragazzi. Però, nonostante questo, noi nel passato abbiamo fatto anche delle regate d'altura molto belle. Una a cui sono particolarmente affezionata è la regata delle aree marine protette, proprio perché anche questa ha uno scopo sulla natura, sulla natura delle aree marine protette, che in Campania sono tantissime. Noi abbiamo l'area marina protetta del Parco Nazionale del Cilento, ma se anche arriviamo a Napoli ci sono anche altre aree marine protette. La nostra ambizione è di fare una grande regata da Sapri fino a oltre Napoli e vediamo se ci riusciremo il prossimo anno. Presidente, cosa dice ai ragazzini e alle ragazzine che si avvicinano alla vela? Che è lo sport più bello del mondo, se lo chiedono a me, ovviamente, perché sono innamorata della vela da quando ero piccolissima, che è uno sport completo, bellissimo e che ti dà tanto, tanto, perché ti fa capire meglio la natura. Con il consigliere Roberto Miraglia, al termine di questa giornata di Open Skiff, la vela protagonista con i più piccoli nel Golfo di Policastro. Un altro bel weekend, consigliere. Sì, siamo tutti molto contenti. Stiamo lentamente, ma con grande decisione, riprendendo dopo quest'anno e mezzo di stop forzato. Ad una ad una le classi sono ripartite, sono ripartiti i laser, sono ripartiti gli optimist, fra un po' ripartiranno i 4,20 e gli Open Skiff sono, come dire, ormai già consolidati, siamo alla terza tappa. In questa situazione è piuttosto difficile dal punto di vista meteorologico, perché è un periodo di poco vento, siamo riusciti oggi, grazie al comitato, portare a casa tre regate. Insomma, siamo tutti molto contenti. Il circolo è stato un ospite meraviglioso, siamo tutti contenti. Insomma, non c'è molto altro da dire se non che è stata una grande festa della vela per la quale dobbiamo ringraziare tutti quanti, comitato, circolo, ospitante, regatanti, istruttori. Un movimento in crescita e anche andare in realtà più piccole è importante appunto per avvicinare i più giovani a questa disciplina. Sì, sì, è interesse del comitato di zona naturalmente che la presenza della vela sia la più capillare possibile in tutta la Campania, da Baia Domizia fino a Sapri, appunto fino agli estremi confini. Nonostante ci siano indubbiamente realtà molto consolidate e molto grandi come sono prima di tutto Napoli e poi Salerno, ma ora ci sono tutta una serie diciamo di centri in via di sviluppo che ci fanno sperare appunto che la vela possa davvero consolidarsi come una realtà dell'intera Campania. Grazie a tutti.